ciao a tutti oggi prepareremo la maionese pastorizzata il tempo di preparazione della ricetta è di 7 minuti circa gli ingredienti sono uova sale aceto bianco e olio di semi andiamo via la ricetta siamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sale e l'aceto e facciamo cuocere per due minuti 100 gradi velocità 1 adesso versiamo le uova dal foro del coperchio prima di mettere le uova azioniamo il bimbi senza tempo e senza temperatura a velocità 6 versiamo le uova riposizioniamo il misurino e sempre con le lame in movimento versiamo l'olio sul coperchio grazie alla forma del misurino l'olio scenderà all'interno del boccale non appena l'olio sarà sceso del tutto all'interno del boccale azioneremo il bimbi a velocità 7 per 10 secondi quindi aspettiamo che arrivi a un minuto a un minuto e 10 interromperemo la nostra maionese pastorizzata è pronta maionese pastorizzata si conserva in frigo per un mese grazie e alla prossima ricetta a 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